Da quanto sei in Italia? Un anno. Ume, ti piace stare qui? Sì, molto. L'ho visto dopo un anno, l'altra sera, rideva, rideva, mi strinse e non sapeva che il mio cuore batteva, batteva. Con te non si può parlare, ma si sta a sbraizzare. Perché sono un urlo, ma quando accorgi che sto a parlare, sono un urlo, ma come vedi? Che colpa ne ho, se il cuore è uno zingaro e va, e va, finché troverà il prato di me. Perché sei qui? Perché sei qui? Che vorrei apparire, esistere per qualcuno. Scusa. Scusa tu.